Buonasera a tutti. Grazie al nostro gruppo, grazie per questa partenza che ci ha fatto entrare direttamente nel tema di questa serata insieme a Nadir per la pace. Io sono Brunetto Salvarani, avrò il compito di coordinare questa parte della serata, sono il direttore di una rivista di interculturalità a proposito dei missionari saveriani che si chiama C'è Mondialità e per cominciare presento Luisa Barbieri che è la responsabile scientifica di Nadir che è una delle maggiori indiziate, delle colpevoli per tutto questo progetto di queste serate e le do la parola per presentare il senso di questa operazione, poi invece presenteremo i nostri ospiti. Grazie molto. Buonasera a tutti, grazie di cuore per aver deciso di passare un pochino del vostro tempo con noi per tentare di pensare un pochettino a noi, a quello che in questa fase storica sembra portarci verso una sorta di implosione planetaria. Io sono Luisa Barbieri, sono responsabile dell'attività scientifiche dell'associazione medica Nadir. La Nadir fa parte del tavolo della pace della provincia di Bologna e in questa occasione ha tentato di chiamare a raccolta altre associazioni. Siamo partite da 10-20 gruppettini sino ad arrivare come per magia a formare un gruppo di 160 associazioni e questo gruppo a un certo punto ha avuto bisogno di avere un nome, insomma, quindi l'abbiamo battezzato insieme a, questo momento sarà insieme a Nadir, speriamo che domani sia insieme a qualche l'un altro, insomma. Ecco, speriamo che davvero questo rappresenti l'inizio di un lunghissimo cammino da percorrere insieme di fatto e non soltanto di nome, un cammino che possa portarci a costruire una società interculturale dove la diversità non rappresenti più una barriera ma un punto di incontro. Quindi questo nostro gruppo non vuole assolutamente fermarsi all'organizzazione e allo svolgimento di queste serate ma appunto vorrebbe proseguire questo cammino di collaborazione finalizzato a promuovere e a rendere concreto ogni progetto destinato a migliorare la convivenza in questo paese dove la multiculturalità è divenuta a tutt'oggi una realtà. Una realtà tanto gradevole quanto contrastata, contrastata da chi continua a perseverare nella cecità e nell'arroganza dettata dalla paura di ciò che non conosce, contrastata da chi non riesce a comprendere il grande valore dell'incontro della diversità e di chi invece lo comprende benissimo ma nutre tutto l'interesse affinché il livellamento non avvenga perché c'è anche questa fetta insomma secondo me da considerare. Io vorrei rivolgere un particolare ringraziamento alle istituzioni e alle aziende che hanno patrocinato gli eventi, avete già visto comunque nei cartelloni che sono passati dietro, comunque mi avrei piacere di ripetere, sono la EMI, Arco Iris TV che sta riprendendo gli eventi e che permetterà anche a coloro che non sono presenti in sala di poter partecipare attraverso internet, ai fratti minori dell'Antoniano che ci hanno concesso la disponibilità del teatro, alla Banca Etica, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Bologna, alla Provincia di Bologna, ai quartieri Porto, Santo Stefano, San Donato, al Comune di Zola Predosa, al Gruppo Onlus 6 Saturano, a Lega Coppe, a Powerlog Minerva, al Consorzio Iniziative Sociali e a Manotencoppe. Allora stasera parleremo di interculturalità, di pregiudizi e di paure. Paura è conseguente ai pregiudizi, quindi parleremo di noi, di un noi che vuole partire da un momento di autocritica, un'autocritica che vuole essere orientata a ricostruirci, a ritrovarci nella nostra interessa di esseri umani. Parlare di pregiudizi è facilissimo dal punto di vista teorico, razionalmente è facile comprenderne il significato, un carico di emozioni per lo più negative che nascono prima di ogni valutazione, lontane dalle esperienze dirette, giudizi nei confronti di persone o situazioni che per lo più trovano radici nell'insoddisfazione individuale o di gruppo. Mi fermerei un attimo sul discorso dell'insoddisfazione, perché è un'insoddisfazione non in senso assoluto ma quasi sempre derivante da una deprivazione relativa, ossia, cerco di spiegarmi un po' meglio, da un vissuto individuale o di gruppo che in realtà non corrisponde alla realtà, che rappresenta un pochettino il frutto dell'immaginario sviluppato in difesa di sé, di ciò che si ritiene di possedere e che quindi viene percepito come proprietà al di là di quella che è l'oggettività della situazione, insomma. Tutti noi tendiamo a salvaguardare quello che riteniamo essere nostro, che sia il contesto sociale, che sia il lavoro, che sia la moglie, che sia quello che volete, comunque questo fa nascere i pregiudizi. Non sono ovviamente supportati da nessun tipo di cognizione, di verifica, di confronto, rappresentano soltanto sterili sentenze di accusa orientate a creare delle ostilità nei confronti di persone appartenenti a dei gruppi che vengono riconosciuti come stranei. Gruppi nei quali non sembra possibile creare delle difese adeguate se non aperta ostilità sostenuta dalla paura, e qui nasce il discorso della paura. La paura del diverso, la paura delle culture che noi viviamo come altre, quindi come perdenti, sconfitte in partenza. Noi tendiamo a partire sempre dal presupposto che la nostra sia la cultura dominante, una cultura che si basa sull'economia, sulla tecnologia, sulla forza militare, quindi non so se è una cultura dominante. Comunque, noi partiamo da quel presupposto. Per quanto riguarda il discorso di Nadir, che cosa c'entra un'associazione medica con tutto questo discorso? Questo penso che sia abbastanza importante, no? La nostra associazione medica si occupa di disturbi di relazione. Il progetto di Nadir ha delle radici molto molto antiche, parte dall'89, la sperimentazione in ambito ospedaliero, e questa nostra sperimentazione è arrivata a riconoscere quanto gli individui non siano più attori protagonisti della loro stessa esistenza, in pratica, ma quanto lo siano gli intrecci delle loro prestazioni in funzione degli scopi prioritari imposti, imposti dal sociale, insomma. Le relazioni interpersonali arrivano ad evitare il contatto, l'intimità, l'emotività, a schiacciarla, e quindi conseguono la rinuncia, la rinuncia alla propria riservatezza, al proprio essere se stessi, e da qui ne esce un'enorme difficoltà a riconoscere quello che è il nostro corredo emotivo, e quello che poi noi vediamo tutti i giorni in ambito clinico. Insomma, la mia esperienza clinica nell'ambito dei disturbi di relazione, l'espressione clinica più evidente, più riconosciuta dei disturbi di relazione sono i disturbi del comportamento alimentare, l'anoressia, la bulimia e l'obesità che noi abbiamo inserito nell'ambito dei disturbi di relazione. Ecco, questa mia esperienza clinica mi suggerisce quotidianamente come questo intrecciarsi di relazioni fondamentalmente fittizi, fittizi e determini l'insorgenza di disagi, sino a determinare franche patologie a carattere autodistruttivo, perché questo è fondamentalmente. Quindi lo vediamo nell'individuo, lo vediamo proiettato nel sociale. C'è chi mi ha detto una volta tu hai una platea privilegiata, in effetti è vero perché i nostri pazienti rappresentano un pochettino quella che è la crema di questo contesto sociale. L'autodistruttività che noi vediamo costantemente in ambulatorio, insomma in associazione, a nostro avviso è sostenuta da aggressività non espressa, non buttata fuori insomma, quindi coartata. Però l'aggressività è presente, deve essere presente, deve essere riconosciuta, deve essere accettata e nel momento stesso in cui non viene accettata si esalta, si esalta, soprattutto se vi è una chiusura forzosa a cui il soggetto si deve sottoporre. Il nostro contesto sociale in questo modo induce alla chiusura forzosa. Riducendosi così lo spazio espressivo, che cosa succede? Succede che l'individuo e il gruppo che poi forma il contesto sociale tende a ripiegarsi su di sé. Questo che cosa determina? Delle fortissime ripercussioni emotive in quanto quando la funzione che all'individuo spetta come membro impersonale dell'organismo sociale entra in collisione con quello che l'individuo aspira ad essere, si crea del malessere, del disagio individuale e sociale e di gruppo. Si è creata praticamente una nuova forma di schiavitù, una schiavitù che noi chiamiamo tecnologica, che crea un conflitto interiore, che blocca le emozioni e torniamo al solito discorso, che induce aggressività. Oltre all'aggressività o conseguente l'aggressività anche tanta paura, tanta paura di non riuscire ad essere ciò che virtualmente il sistema ci impone. Ecco ed è proprio su questo che il nostro staff medico psicologico lavora, integrando il programma medico rieducativo destinato ai portatori di disturbi di relazione con forti stimoli sociali. L'organizzazione di questi eventi, l'impegno che costantemente noi mettiamo in ambito sociale sino a lavorare nel sud del mondo è una testimonianza degli stimoli forti sociali che cerchiamo di dare ai nostri pazienti affinché la loro visuale che obbligatoriamente si rinchiuda ad angolo acuto possa in qualche modo riaprirsi verso gli altri, verso il mondo. Quindi accogliere e ricominciare a riaprire una sorta di ciclo vitale. Tutto questo noi abbiamo visto essere piuttosto efficace nel contenitore associativo perché è un contenitore che agisce alla base, per la base, sul territorio e ci dà la possibilità di interagire con altre associazioni. Questa è una dimostrazione concreta nella formazione di questo gruppo. Per chiudere, ci domandavamo quale strada poter provare a percorrere, per uscire da questo buco nero. Ecco, noi crediamo che l'unico strumento a disposizione sia quello di ampliare la sfera cognitiva, di fare informazione. Maggiore è il numero di informazioni, maggiore è la possibilità di riappropriarsi della libertà di espressione, quindi di scelta e quindi di movimento. Noi anche in ambito terapeutico cerchiamo di fare moltissima informazione. Utilizziamo tantissimo, per esempio, il canale di Arcoiris, che è un canale senza censure, che ci permette di passare ai nostri pazienti tantissime informazioni sulle quali poi discutere e quindi cercare di aprire un pochettino le nostre mente, non solo quelle dei pazienti, perché noi abbiamo bisogno di aprire le mente. Quindi dobbiamo in pratica cercare di uscire da quella che è l'omologazione sociale, insomma. Una omologazione sociale, non ho la bella dialettica della nostra attrice, mi incardo un po', sapientemente indotta e condotta dal sistema mediatico, che a mio avviso è la vera arma di distruzione di massa, quello che sta appiattendo il pensiero critico, che ci sta impedendo di utilizzare il nostro cervello, insomma, che è così bella, è la nostra vera arma. Ecco, e non abbiamo più la possibilità di fare delle esperienze, perché sono tutte esperienze che si basano sul virtuale. Quindi, esonerandoci dall'esperienza diretta, ci rimane solo quella con la rappresentazione degli eventi. Il problema qual è? Che la rappresentazione degli eventi passa sempre e comunque attraverso il sistema mediatico. Il sistema mediatico che filtra, filtra ogni situazione, ci passa quello che meglio crede, insomma, la modifica e induce alla fine un giudizio globale omologato. Il giudizio globale omologato comporta, determina tutta una serie di comportamenti altrettanto omologati di risposta, insomma. Quindi ognuno di noi alla fine rappresenta ciò che nell'ambito di una sorta di monologo collettivo, l'esperienza della comunicazione globale induce senza alcuna possibilità di formulare valutazioni e giudizi sull'onda della nostra struttura di personalità, di quello che noi siamo come individui. Conseguentemente siamo anche preda di crollo della comunicazione umana, che è naturalmente invece caratterizzata da contraddizioni, da emozioni, da verità, da bugie, insomma, fanno parte dell'animo umano e devono essersi per carità, guai mai non ci fossero. Ma in questo modo perdiamo comunque la responsabilità di parlare in nome proprio, quindi demandiamo ogni tipo di responsabilità e questo è gravissimo e gravosissimo perché ci allontana dal prendere delle decisioni, dal fare delle scelte e quindi dal vivere liberamente fondamentalmente. Ecco, quindi la ricerca dell'esperienza diretta, secondo il mio, il nostro parere, la via per riscoprire il valore intrinseco di ognuno di noi inserito nell'intreccio relazionale del sociale ed è a questo che il nostro gruppo, adesso il nostro gruppo insieme a, mi sono già impossessata di questo gruppo pur non volendo, ecco, lo sento già molto nostro, ecco, sta tendendo, incontrandoci e collaborando al fine di abbattere le barriere mentali e relazionali che impediscono la comprensione del valore della diversità, la possibilità di creare una cultura integrata in grado di arricchirci sia come individui che come gruppi. Devo dire che questi sei mesi di lavoro che hanno portato, ci hanno portato qua stasera e sabato prossimo e domenica al parco dell'ex manifattura tabacchi al centro sociale Giorgio Cosa è già stata una grandissima vittoria perché in effetti in questi mesi siamo stati insieme, ci siamo conosciuti e sono partite tantissime relazioni e tantissime idee e credo che tutto sommato questo sia già un grandissimo successo almeno per quanto mi riguarda. Volevo ricordare che, questa è una cosa di servizio che mi hanno detto di dire, che i cd che troverete all'uscita e che sono assolutamente in omaggio contengono le letture e le informazioni riferentesi ai seminari e alle serate che stiamo conducendo, quella di stasera sull'interculturalità, quella di sabato che vertirà sull'Africa e come affrontare le missioni in Africa alla presenza di padre Alex Zannotelli e del professor Silvio Pampiglione. Ripasso la parola a Brunetto. Applauso, anche perché dovete sapere che Luisa, io l'ho incontrata due ore fa, era tesissima per questa e avete visto come man mano che passavano i minuti diventava più spigliata rispetto a questi temi che come avete colto hanno anche una loro complessità. Però è stato importante partire da qui e partire da qualcosa di già vissuto, da un'esperienza reale. Io presento i nostri ospiti a questo punto, devo presentare chi non c'è, anzi fare le scuse di chi non c'è, che è Pierluigi Sullo, direttore di carta, che non vedete e che non è qui per sopraggiunti motivi professionali, ha promesso che verrà un'altra volta, per ora lo salutiamo e siamo dispiaciuti, ma in compenso abbiamo due ospiti di eccezione. Per cui alla mia destra ho Lisa Clark, dei beati costruttori di pace, che viene da Firenze e anche solo per questo meriterebbe un grande applauso. Firenze merita comunque un grande applauso, poi lei spiegherà la sua storia eventualmente. Non so se Imperia merita applausi, ma comunque insomma la provincia sì, insomma ci sono delle cose importanti. In provincia d'Imperia tra queste cose c'è Anza Roberto Piccardo, che è qui alla mia sinistra, che è portavoce dell'UCOI, cioè dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. È qui per l'occasione, quindi ai noi e anche lui applauso. Ora una rapidissima presentazione di questa tavola rotonda, chiamiamola così, ridere della paura, fobie e pregiudizi in una società interculturale. Io mi limiterò a due sottolineature. La prima che in realtà, anche per quanto ci diceva Luisa prima, ma l'analisi un po' di quello che sta succedendo attorno a noi, dell'aria che tira quando siamo di fronte a un telegiornale e tutte le volte siamo presi da ansie terribili perché ormai le buone notizie non esistono, ci farebbe dire che in realtà oggi c'è ben poco da ridere. E quindi che è stato particolarmente intrigante l'aver deciso di dedicare invece a questo tema una serata come questa. Ci vuole un bel coraggio a parlare di ridere, anche di ridere dei pregiudizi e delle chiusure. Perché oggi i casi sono due. O si muore dalla paura o si ha una gran paura di morire. E tutt'al più si ride per non piangere, più che per esorcizzare la paura generalizzata. Eppure sarebbe molto importante imparare a prendersi relativamente sul serio, a giocare sull'umorismo, a ridere anche talvolta a non prendere troppo sul serio anche le nostre scelte, le nostre decisioni e soprattutto il nostro io. Oggi le religioni, sapete che sono tornati in home page, come si dice in prima pagina, hanno molto successo. Da una parte si parla di rivincita di Dio, dall'altra parte però hanno anche una cattiva stampa, soprattutto alcune religioni, non farò dei nomi, però insomma credo che ci capiamo. Allora io per alludervi generalmente ricorro a una storiella irlandese che vi riciclo per l'ennesima volta, ma che di solito funziona, vediamo un po', che dice abbastanza bene l'aria che tira. Non c'entra i musulmani, quindi per una volta ti tengo fuori. I protagonisti invece sono un prete cattolico, un pastore e ovviamente un rabbino che si mettono a discutere e discutono in maniera tale che a un certo punto la violenza tra di loro sta incominciando a crescere. Allora dall'alto interviene il classico angelo per dire la sua e per cercare di fare da pacere. Arriva l'angelo e dice signori, signori, un po' di calma, io sono qui per dirvi una buona notizia che voi avete la possibilità di dire un desiderio che io esaudirò immediatamente, senza nessun problema, sperando appunto di calmare questa situazione leggermente imbarazzante. Il prete cattolico non ci pensa un minuto, immediatamente dice io lo so già, lo so già il mio desiderio, il mio desiderio è questo, fate sparire dalla faccia della terra tutti i protestanti e io sarò contentissimo. Un desiderio piuttosto imbarazzante, l'angelo rimane un po' così, vuole sentire anche quello del pastore e il pastore immediatamente dice ah lo so anch'io, lo so anch'io. Io dico buttate fuori, fate sparire immediatamente dal mondo tutti i cattolici e sarò strafelice. L'angelo è sempre più imbarazzato, tanto più che il rabbino non dice nulla e allora cerca di coinvolgere, dice ma lei, lei signor rabbino non ha nulla da chiedere a voi ebrei. E allora il rabbino risponde, no no, noi non abbiamo niente da chiedere, ma mi raccomando signor angelo, esaudisca bene i desideri di questi due miei colleghi e sarò entusiasta. Ecco, questo è un po' quello che il clima che c'è in giro, perché oggi si pensa che le religioni purtroppo invece di aiutare la pace, invece di aiutare le dinamiche dell'interculturalità, siano un freno, siano un problema. La seconda sottolineatura è proprio nel termine interculturalità, non la farò lunga, però vi voglio sottolineare il fatto che non è scontato parlare di interculturalità, né di società interculturale. Noi tutt'al più oggi parliamo di multiculturalità, cioè constatiamo la presenza di tante culture assieme. Talvolta parliamo di comunitarismo, talvolta parliamo addirittura di multietnicità, usiamo dei termini anche un po' imbarazzanti. Ecco, interculturalità è importante perché dice che c'è già oggi una dinamica di meticciamento, scusate se uso questo termine, che forse non a tutti i politici italiani piace, ma insomma di meticciamento, di scambio, di collegamento. Ecco, la novità è questa, che noi stiamo discutendo di qualcosa che esiste già. Forse qualcuno tenta di frenarlo, forse qualcuno non se ne sta accorgendo, finge di non accorgersene, ma di fatto questa società sta diventando molto più plurale, molto più mista, molto più appunto interculturale, senza però averci ragionato abbastanza. E allora il nostro tema è proprio quello di fornire delle chiavi di lettura in maniera tale che le istituzioni, le istituzioni educative per esempio, che sono centrali da questo punto di vista, la cultura, ecco, riesca a rispondere alle esigenze di una società che sta cambiando in maniera estremamente rapida e sta diventando qualcosa che non possiamo immaginare ancora cosa diventerà, ma che sicuramente è qualcosa di diversissimo rispetto a qualche anno fa, appunto una società interculturale. allora, detto questo io partirei con una domanda che volevo fare ai nostri due ospiti, proveremo a partire così voi avete qualche minuto per dire la vostra, cerchiamo di rendere tutto molto molto rapido se riusciamo. E la domanda è questa, qual è il rapporto dal vostro punto di vista, tra l'umorismo e il cammino di fede della vostra esperienza religiosa, o semmai qual è il vostro cammino, la vostra esperienza rispetto all'umorismo, rispetto al ridere? Domanda molto meno scontata di quanto non sembri, perché in effetti di solito le religioni, tranne eccezioni che confermano la regola, vengono pensate qualcosa che non hanno nulla a che vedere con il ridere, il divertimento, l'umorismo, anzi molto spesso diffidano di questo percorso, perché è qualcosa di pericoloso. Cominciamo da Lisa. Buonasera a tutti voi che non vi vedo, perché noi abbiamo la luce negli occhi, però prima lo so, vi vedevo e quindi so che ci siete. Io sono un po' in difficoltà, perché tu mi hai detto nella tua religione. Ecco, la mia fede è una cosa che ha fatto grandi sbalzi, ed ha fatto grandi sbalzi attraverso i confini delle diverse religioni. Per spiegarmi un pochino meglio devo forse cominciare un minimo con la storia, una storia di famiglia, da parte di mia madre. Io sono statunitense e la famiglia di mia madre, a livello di bisnonni, erano ebrei arrivati dall'Europa centro-orientale, non sappiamo neanche bene dove, ma insomma probabilmente quello che adesso è Ciecoslovacchia o Polonia, così, e si erano stabiliti sulla costa orientale come tantissimi degli ebrei che arrivavano negli Stati Uniti nell'Ottocento, dove da bravi ebrei facevano i banchieri, e a un certo punto uno dei figli minori decise di andare anche lui verso Ovest, era il momento in cui gli statunitensi andavano a Ovest a conquistare l'Ovest, e andò a stabilirsi in Oklahoma, lo stato dell'Oklahoma, che è veramente uno dei posti più tristi al mondo, nel senso che è un'estensione di deserto, e a quell'epoca ancora non aveva scoperto che sotto quel deserto c'era molto petrolio, però lui andò lì perché forse voleva affrancarsi un attimo dell'influenza del padre molto potente, dei fratelli maggiori, andò lì e fondò la prima First City Bank, Oklahoma City Bank, la prima banca da bravo banchiere. Dopo che aveva avuto la sua famiglia, i bambini che crescevano, eccetera, era una persona molto ricca in questa nuova città, era però l'unico ebreo, ed era l'unica famiglia ebrea, perché lì erano tutti cowboy, e cominciarono gli altri a trovare il petrolio nel giardino, non lui, ma gli altri, forse perché non l'ha neanche cercato, tanto i soldi non gli mancavano, faceva il banchiere, ma gli altri trovavano il petrolio nel giardino e diventavano ricchi, siamo tipo 1880, roba del genere, già il petrolio significava qualcosa, non quello che avrebbe poi significato dopo nel ventesimo secolo, però. Le persone che cominciavano a diventare ricche, cominciarono a esserci le classi a Oklahoma City e uno dei passatempo delle persone più facoltose era il club del golf, dove in mezzo al deserto, con tutti i soldi che avevano, avevano fatto dei prati verdi e giocavano a golf. Naturalmente il mio trisnonno, quello che era, non so esattamente contare tutte le generazioni, voleva, naturalmente, lui era il banchiere, era ricco, voleva far parte del club del golf e andò lì e disse io e la mia famiglia diventiamo parte del club del golf e questi gli dissero, eh no, eh no caro, sarei ricco, su questo non abbiamo dubbi, ma sei ebreo, puoi mica entrare nel club del golf in Oklahoma da ebreo. Lui non fece storie, entro un mese la famiglia era convertita, la mia famiglia è una famiglia cristiana adesso. Ecco, vedete, quindi credo che, non credo neanche che fosse particolarmente unica la mia famiglia nel fare una cosa del genere a quell'epoca. È rimasto moltissimo, già con tutte le generazioni che si sono succedute. la mia mamma rimane in lei fortissimo, pur essendo stata allevata più o meno da cristiana, protestante, episcopaliana, rimane fortissimo la cultura ebraica. Rimane fortissimo in noi la cultura della barzelletta ebraica, che è una cosa straordinaria. Noi in Italia abbiamo moniovadia, ma è forse davvero l'unica religione in cui veramente si ride di se stessi e delle proprie credenze e delle proprie abitudini. Posso raccontare anche io una barzelletta. Due rabbini che erano stati compagni di scuola si incontrano dopo lungo tempo che non si vedevano e si salutano e uno fa l'altro, ma come vai? Come sta la tua famiglia? E tuo figlio? E l'altro gli fa, taci, mio figlio che dispiacere, sai? Il mio figlio era proprio la gioia del mio cuore, è diventato cristiano. E il primo gli fa, ma che coincidenza, proprio a me lo dici? Anche il mio figlio, il mio figlio maggiore, anche lui si è convertito al cristianesimo. Andiamo a sentire il rabbino capo, l'anziano, se ci può dare qualche aiuto su questo. Vanno dal rabbino capo, dall'anziano e lui ascolta le loro storie e dice, ma che coincidenza, proprio a me lo venite a dire. È successa la stessa cosa a mio figlio, anche mio figlio si è convertito. E allora insomma va avanti, essendo una barzelletta ebraica, va avanti a lungo, ma a un certo punto decidono, beh, chiediamo al Signore, il Signore ci risponderà. Gli fanno tutta la domanda, il cielo si apre, ma che coincidenza, proprio a me lo chiedete? Cosa che capitano nelle migliori famiglie, come si suol dire. Bene, direi che siamo partiti molto bene, sentiamo se, Anza, nella tua storia o nella tua vicenda o nella tua tradizione religiosa c'è qualcosa del genere. Sì, buonasera a tutti. Noi quando sentiamo i nostri amici ebrei raccontare queste barzellette che tante volte scherzano su loro stessi evidentemente e ci sembra che scherzino anche un po' su Dio, il musulmano rimane un minimo scandalizzato, sinceramente, no? Perché nostra è una dimensione diversa quella del rapporto tra l'uomo e Dio, evidentemente. Una cosa che d'altronde io avevo già nella mia infanzia cattolica, mia nonna siciliana che mi diceva scherza con i fanti e lascia stare i santi, nel senso che la dimensione del sacro doveva essere qualcosa nei confronti del quale l'uomo si doveva comportare in maniera seria e quindi non attribuire neanche al santo, figuriamoci tantomeno a Dio, nessuna delle debolezze, nessuna delle piccolezze su cui l'uomo ride di se stesso, evidentemente. Questo non vuol dire che non ci sia anche nell'Islam e nel percorso poi religioso di ognuno di noi, degli episodi di grande umorismo. Ne ricordo uno per tutti e proprio adesso siamo nel mese di Ramadan, sapete il mese del digiuno, il quarto precetto dell'Islam, si racconta che un uomo andò dal profeta e disse io sono rovinato, dice cosa è successo? Dice io insomma non ho resistito e ho fatto l'amore con mia moglie oggi durante il giorno, ecco il precetto vieta l'assunzione di cibo, bevande e rapporto sessuale per chi non lo sapesse. E allora il profeta disse beh insomma devi pagare la caffara, cioè l'espiazione, devi fare un'espiazione perché hai fatto una cosa che non dovevi fare. E dice ma io sono povero, dice vabbè devi dare da mangiare, devi liberare uno schiavo. Dico ma io non sono povero, non possiedo schiavi, non posso neanche comprarne uno per liberarlo. Dice allora devi devi digiunare per 60 giorni, non ce l'ho fatta fare il digiuno un mese intero, figuriamo se ce la faccio per 60 giorni. Dice allora dai da mangiare a 60 poveri, dice io sono più povero di tutti, non posso dare da mangiare a nessuno. E allora in quel momento arrivò qualcuno, portò un grande cesto di datteri in omaggio al profeta e il profeta gli disse beh prenda questi datteri e dalle ai poveri. E questo gli disse ma io sono più povero di tutti. Il profeta si mese a ridere e disse portateli a casa e mangiali con la tua famiglia. Ecco. Quindi voglio dire non è che non esiste questa cosa, esiste come la storia racconta di uno degli uomini più seri e anche timorati di Dio nella storia Islam, il secondo califo che era, il profeta diceva quando Shaitan, cioè Satana ti incontra cambia strada, tanto era un uomo severo, forte, austero e raccontano che un giorno un uomo che era in qualche maniera oppresso da una moglie Santippe, insomma una moglie pesante che lo rimproverava, in qualche maniera in continuazione andò a casa di Omar per dirgli cosa poteva fare, se poteva divorziare, insomma non ne poteva più. E mentre si avvicinava alla porta di Omar sentì la moglie di Omar che diceva Omar, che ti credi di essere tu, insomma in qualche maniera. Allora disse oh 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 sono andato a parlare di corda in casa dell'impiccato, in qualche maniera, e se ne fece per andarsene via. Omar che l'aveva visto sulla luce della porta lo chiamò e disse vieni qua, cosa c'è? No no ma veramente niente, io passavo, no no tu non passavi di qui, tu stavi venendo a casa mia, è successo qualcosa. E anche questo con grande imbarazzo disse beh io veramente stavo venendo a lamentarmi di mia moglie e poi hai sentito cosa succede in casa mia. Dice sì ho sentito. E dice beh questa è la nostra situazione, dobbiamo fare pazienza. E quindi ci sono episodi che in qualche maniera anche che riguardano queste realtà altissime, quindi i profeti e i suoi compagni eccetera che hanno un senso così di umarismo, di sorriso eccetera. D'altronde il sorriso fa parte della buona disposizione dell'animo e quindi è anche una sadaca, cioè un'elemosina, la più semplice e anche tante volte la più gradita che si può fare. Quindi far sorridere le persone sicuramente è una cosa buona. È sicuro che nella fase attuale molte volte è una risatta da Iena Riddens, insomma la situazione che stiamo vivendo, no? Cioè perché sia a livello locale che a livello strutturale in qualche maniera, la società eccetera, diciamo oggi 30.000 bambini sono morti e potevano non morire. Ci facciamo una risata difficile. Oggi 115 milioni di bambini non sono andati a scuola perché non c'era la scuola, più quelli di via 40. Ci facciamo un'altra risata un po' difficile. Cioè ci sono delle realtà che sono talmente pesanti che o ce le dimentichiamo oppure rischiamo di dover vivere una situazione di continua depressione a fronte della quale difficilmente possiamo sorridere. Nella fattispecie nostra, attualmente la comunità dei musulmani in occidente, in Europa, in Italia, dove viviamo una situazione molto difficile in questo momento, evidentemente si fa fatica a ridere. Si fa fatica perché c'è una situazione che viene vissuta come minacciosa, in qualche maniera, a livello personale, a livello generale. Forze di governo non hanno paura ogni giorno di violare tutte quelle che sono le leggi contro la discriminazione religiosa, discriminazione raziale, eccetera, creando i presupposti per episodi poi gravissimi. L'ultimo di una bambina marocchina, italo-marocchina di Biella, che è stata aggredita, gli hanno inciso una svastica sul braccio, una ragazzina di 12-13 anni. Queste cose qua. Quindi non c'è dubbio che i mandanti di tutto questo siano in alcune forze politiche. Quel signore di cui parlava che siede la seconda carica della Repubblica, purtroppo, speriamo, le prossime elezioni ci rilevino che ci fanno finire di vergognarci in Europa di questa gente. Ecco, la situazione è un po' questa, quindi riuscire a ridere ci si riesce soltanto a condizione di avere in fondo al cuore una grande serenità, che non è quella del molti nemici molto onore, per carità, per carità, ma è quella di dire essere credenti vuol dire testimoniare, ogni giorno con tutta la propria capacità. Se riesco a testimoniare quello che io sono, ed è una testimonianza che non è aggressiva mai, ma è di verità, anche se talvolta è molto scomoda e a volte costa caro dire le cose che si ritiene siano giuste, molte volte si sbaglia, evidentemente, ma lo si fa anche in buona fede. Ecco, in questo senso si riesce a mantenere una, non dico una risata interiore, perché sarebbe troppo, però un certo sorriso, un certo sorriso nel cuore, che fa sì che in qualche maniera possiamo mettere un po' di aria tra noi e le cose, con un pochino di uno spazio di umorismo, uno spazio di allontanarsi da quella che è l'insulto quotidiano di almeno 5 o 6 giornali, di almeno 20 o 30 giornalisti, che ci fa in qualche maniera sorridere sulla miseria di chi in questa maniera pensa di ottenere vantaggi, evidentemente, scaricando su una comunità che sicuramente è la più debole in maniera molto maramaldesca, ora non siamo uomini morti, non ci stanno uccidendo, siamo vivi e vegeti, grazie a Dio, ben diverso dalla storia, vive tu uccidi un uomo morto, però sempre maramaldesca è, o vigliacca perlomeno, pigliarsela con i più deboli, che sono stranieri, che sono deboli culturalmente, che sono deboli socialmente, che non hanno protezione politica, bah domani forse la Turchia in Europa sposterà un pochino gli equilibri e forse da 15 milioni di musulmani in Europa diventeremo 85 milioni, forse avremo un pochino più di protezione e potremo sorridere un po' di più. Bene, grazie, ti annuncio che sarà dopo domani, visto che i tempi sono un pochino lunghini di questo ingresso, però insomma no, ognuno è, esatto, siamo on the road. Bene, allora siamo entrati un po' nel tema, io adesso vorrei pigliare l'altro corno, il discorso sulla paura, che è molto diffusa, noi oggi, dicono i sociologi, viviamo in un'età dell'incertezza, più che ancora della paura, perché ormai siamo all'interno di meccanismi che ancora più di ieri sentiamo di non controllare, o perlomeno temiamo quello che non conosciamo e probabilmente temiamo le trasformazioni, ci sentiamo parte di una società così rapidamente in trasformazione che lo spaesamento probabilmente è l'esperienza che viviamo nella quotidianità. E allora volevo chiedervi, sempre partendo eventualmente da esperienze personali o comunque dall'esperienza della vostro cammino di fede, ecco, se c'è una percezione di questa paura, cioè se la paura in effetti è qualcosa che è diffusa ed è diffusa rispetto alle vostre file, diciamo così, e in che senso? E poi, così metto accanto alla paura un'altra parola chiave, il pregiudizio, cioè se secondo voi ci sono dei pregiudizi, sono dei pregiudizi diffusi, in che senso? Nei confronti di chi o di cosa? Perché il primo passo per superarli è probabilmente riconoscerli. Ed è molto difficile farlo, ovviamente qui diamo delle così, delle pennellate naturalmente. Però è già importante che riusciamo a distanziarci e a leggere un po' dal di fuori in questa operazione che talvolta tecnicamente si chiama di decostruzione per ricostruire qualcosa anche di diverso e passabilmente di migliore. io credo che la paura che molte persone sentono genuinamente in Italia in questi tempi sia costruita d'arte. Prendiamo semplicemente l'esempio di lunedì scorso a Roma, dell'esercitazione antiterrorismo a Roma di lunedì scorso. A che cosa serviva? Serviva, secondo me, anche per infondere la paura nella popolazione. Il popolo impaurito è più facile da dominare, più facile con un popolo impaurito dire abbiamo bisogno di essere più duri, più repressivi, di limitare le libertà. È un po' che ci rifletto su questo, della situazione italiana. Io ho vissuto negli anni 90, durante la guerra di Bosnia, ho vissuto in Bosnia. Ho vissuto a Sarajevo per quasi tre anni, a periodi alterni, ma anche in tutto il resto della Bosnia ho girato molto durante la guerra. Io sono giunta a una conclusione che non so se è corretto, non so se storicamente verrò provata aver avuto ragione o no, perché per qualsiasi sia stata la ragione che ha fatto iniziare i massacri di Bosnia e su questo si scriveranno libri nel futuro. Senz'altro ci sono le colpe di Milosevic, ci sono le colpe dei croati, ci sono le responsabilità internazionali e bla bla bla. E tutto questo c'è. Chi ha cominciato, chi ha continuato, eccetera. Ma c'è un fatto della guerra di Bosnia, che è un fatto che sul terreno ho visto, toccato, conosciuto con mano, che è un fatto innegabile e che qualcosa ha trasformato vicini di casa in assassini reciproci da tutte e tre le parti. Sono stati compiuti massacri da tranquilli contadini serbi ortodossi nei confronti del vicino che era un bosniacco musulmano con il quale avevano giocato assieme da bambini, erano cresciuti insieme, le loro famiglie hanno cresciuto insieme. Da un giorno all'altro l'uno è diventato l'assassino o il massacratore o anche solo il pulitore etnico dell'altro. E questo in tutte e tre le direzioni, in tutte e tre le direzioni. Allora, qualsiasi sia stato il motivo politico, economico, sete di potere, sete di ricchezza, che ha lanciato le cose che poi sono state prese al volo dai croati in seconda battuta e poi anche dai bosniacchi musulmani perché ne hanno combinati anche loro. Qualche cosa ha trasformato i tranquilli bosniaci di tutte e tre i gruppi etnici in assassini e quel qualcosa è stato la strumentalizzazione della paura. È stato fatto uno studio da un giovane ricercatore inglese che ho conosciuto quando ero in Bosnia, che lui ha fatto uno studio dei mezzi di informazione, principalmente serbi e croati, in quei due, tre anni che vanno dal 91 al 94. Ha dimostrato che il modo di distorcere le notizie, partendo da magari una mezza notizia vera, di distorcerla era sufficiente per trasformarla in una propaganda che poi è diventata una propaganda sempre più martellante, per cui le persone hanno davvero pensato, lo devo uccidere prima io, prima che lui uccida me. Questa è la Bosnia. la Bosnia. Ora, in Italia, vabbè, la situazione è un po' diversa, per carità, e probabilmente l'obiettivo di chi vuole far impaurire gli italiani e rinchiuderli e arruolarli nello scontro di civiltà è principalmente un obiettivo nazionale, di politica nazionale, su questo non... sì, vabbè, che abbiamo mandato i carabinieri a Nassiria a fare la guerra, ma non credo che sia questo l'obiettivo di questa politica italiana di oggi che vuole spaventarci, ma vogliono spaventarci per meglio dominare, perché non ci sia più di senso, perché si accetti qualsiasi cosa, perché non ci siano le persone che alzano la voce contro quello che si va facendo in questo paese. Ma in fondo non è che sia tanto diverso, non è che sia tanto diverso, e da questo abbiamo bisogno di reagire, di non lasciarci buttar giù in questo modo. Io credo che ci sia anche un altro elemento, noi che cerchiamo di seguire il percorso della non violenza nell'analisi dei problemi e quindi nel tentativo di trovare la soluzione, partiamo sempre dalla critica in primo luogo di tutto quello che viene fatto male, di sbagliato in nome nostro, quindi prima di criticare l'altra parte, sempre quella che consideriamo la nostra. Allora io visto che ormai mi ritengo una cristiana e abbastanza, anzi anche forse abbastanza vicino alla fede cattolica in questi ultimi 15 anni, direi così, devo dire che abbiamo bisogno in questa chiesa cattolica italiana di fare un po' di chiarezza, abbiamo bisogno di ritornare un po' a che cos'è il messaggio che ci dà Gesù. Noi non possiamo mica continuare a dire che è cattolica una chiesa e che quindi segue le orme di Gesù, è evangelica, una chiesa in cui un cardinale battezza in nome di Dio una porta aerei che si chiama Cavour e mentre negli stessi giorni c'è un'altra nave carica dei crocifissi viventi dell'oggi che sono gli immigrati che arrivano dall'Africa che cercano di scappare alla fame, alle guerre e di quelli neanche un cardinale, neanche un vescovo di questa chiesa ha sentito il bisogno di dire neanche mezza parola, neanche di pietà per i poveracci che stavano a bordo della Capanamor, ve la ricordate la Capanamor e la sua terribile odissea a largo della Sicilia? Durò venti giorni, in venti giorni, sapete quanto tempo c'è stato per qualcuno nella nostra chiesa che si richiama a Cristo di dire qualcosa ma nessuno ha detto niente? Tranne i soliti noti, Alex Zanotelli, insomma quelli che stanno tra di noi, ma le gerarchie della chiesa in quegli stessi giorni hanno solo preparato il battesimo ufficiale di una nave da guerra, di una nave da guerra, la porta aerei non può essere altro che una nave da guerra. Credo che abbiamo bisogno su questo, di fare delle riflessioni e quando il cardinal Ruini al funerale dei carabinieri morti a Nassiria, povere persone assolutamente che hanno tutta la nostra solidarietà, loro morti e le loro famiglie, ma non erano costruttori di pace. Con quale lettura o mislettura, misinformazione evangelica il cardinale Ruini può permettersi in una cerimonia, in una basilica a Roma di dire i nostri veri costruttori di pace, a meno che non stesse, non vorreste dire non sono i beati costruttori di pace, l'associazione di Padova non sono quelli, ecco questi sono i nostri, ma io trovo che veramente abbiamo bisogno di fare delle profonde riflessioni anche quelli di noi che cercano di identificarsi nel percorso di Gesù e tutto questo ha a che fare con pregiudizi, a che fare con costruzioni di paure ed ha a che fare con la trascendenza, con il modo in cui noi pensiamo che con il messaggio di Gesù noi vogliamo costruire un mondo diverso in cui i poveri Cristi sono quelli con cui camminiamo a fianco e non la padania bianca e cristiana che chiude le porte a quelli che sono i crocifissi dell'oggi. Grazie anche perché ci ha aiutato a ricordare questo grande rimosso della guerra nella ex Jugoslavia che in effetti è uno degli avvenimenti che sono capitati a pochi chilometri da qui, a un mare di distanza da qui e su cui non c'è stata una riflessione successiva dal punto di vista politico, dal punto di vista ecclesiale e questo in effetti è molto grave, molto grave. E poi ti confesso anche personalmente per quella citazione dell'Omelia del Cardinal Ruini perché credo che la ricordiamo un po' in tanti, forse tutti, perché è parsa un po' un via libera ad un modello di chiesa e di religione rispetto alla quale dopo si è capito che si sono aperte tutta una serie di porte, quelli che oggi vengono chiamati i sostenitori della religione civile, del cattolicesimo religione civile, quella religione che rispetto a un tempo quando si diceva Cristo sì, chiesa no, forse vi ricordate, adesso si dice chiesa sì, Cristo no, ma chiesa in che senso? Nel senso di una adesione ad una tavola di valori presuntivamente condivisi perché le nostre istituzioni civili sentono di non averle più. E allora nel momento in cui non ci sentiamo partecipi di un progetto, di un qualcosa di comunitario, allora andiamo a pescare a quella specie di risorsa, di produttrice di valori che riteniamo essere la chiesa, in questo caso la chiesa cattolica. È una tentazione, esattamente come quelle che ha vissuto Gesù di Nazareth nel deserto, di Satana, ed è una tentazione pericolosissima, che credo vada denunciata con molta fermezza e quindi grazie anche per il tono che hai usato ma anche con la chiarezza con cui ce l'hai ricordata. Amza, a te. Ma lui era l'ordinario militare quindi evidentemente non poteva fare un altro discorso. Prima era l'ordinario militare, non era stato l'ordinario militare? No? Sì, ma il problema non è quello infatti. La creazione del nemico e quindi accettare questa mentalità fa venire in mente un esempio che faccio spesso. Quando qualcuno volesse prendersi la casa del suo vicino e quindi non ha la forza ed educa i suoi figli nell'odio per il vicino, dicendogli da piccoli il vostro vicino vi guarda male, prima o poi vi aggredirà. Qualsiasi cosa succede, la bicicletta sgonfiata, la riga sulla macchina, il pallone che è sparito, si dà la colpa al vicino e alla fine gli si dice che questo qua sicuramente un giorno ci entrerà in casa, vi farà del male a voi, a vostra madre, alla vostra sorella. Se un giorno qualcuno se la piglia col vicino, anche sicuramente i figli di questo signore diranno finalmente non se ne poteva più di vivere con questa minaccia vicino. E quindi vuol dire che si crea proprio, si inventa il nemico e quando si è inventato il nemico non c'è più bisogno di dimostrare che è cattivo, è nemico. Perché in tempo di pace le persone si giudicano se sono buoni maestri, panettieri che fanno bene al loro lavoro, meccanici cosenziosi, padri di famiglia, madri di famiglia. In guerra il nemico va eliminato, va messo in condizioni di non nuocere possibilmente per sempre, per cui non c'è più bisogno di crearlo un nemico. Cioè, quando si è creato lo si deve aggredire, eccetera. E quello è un po' quello che si sta cercando di fare in questo momento nei confronti particolari nostri, evidentemente. Qualcuno dice perché siamo noi? Non lo so, può darsi. Semplicemente perché siamo su un cammino di potenza, di un allargamento di potenza. Se fossero degli altri probabilmente sarebbe la stessa cosa. Non è che, io dico, è soltanto perché siamo musulmani, ce la pigliano con noi. In realtà non è questo. In Italia in particolare siamo borderline, siamo una terra di frontiera. Una terra nella quale noi avevamo sperato che potesse essere un ponte come lo è naturalmente, geograficamente, tra le due sponde del Mediterraneo e diventasse un ponte sul quale la gente si incontra. E i ponti sono una cosa molto bella e importante in tempo di pace. In tempo di guerra i ponti si fanno saltare. L'abbiamo visto che vengono bombardati, vengono nominati, anche quelli più belli, anche quelli più storici, il ponte di Mostar, Lisa se lo ricorderà sicuramente. Perché il ponte è una minaccia in guerra. Si può passare sopra, andare dall'altra parte, quindi sia gli uni e gli altri hanno interesse a isolare, farlo saltare. Bisogna che le comunicazioni diventino difficili. Quindi l'Italia come ponte deve essere in qualche maniera destabilizzata perché non ci deve essere contatto, non ci deve essere la possibilità dell'incontro. Questa è una cosa pesante che noi ci rendiamo conto. La comunità lo sente fortemente. Quindi la domanda sulla paura della comunità, eccetera, lo sente. Io negli ultimi due o tre anni, con un crescendo sempre maggiore, sento gente che dice noi stiamo pensando di tornarci nel paese. Qua non si può più vivere, non si potrà più vivere qua. Non potremo educare i nostri figli. Non siamo sicuri per i nostri figli qua. Dice no, ma guardate che forse non è proprio così, è la stampa che agita molto una parte di essa, purtroppo tanta. Però la gente non è così, i vostri vicini, i vostri colleghi di lavoro, i compagni di lavoro, la gente non è così, lo sapete. Sì, sì, è vero che la gente oggi non è così. E questo mi ricollega a quello che raccontava Lisa prima. Cioè, quando si crea la paura, la paura diventa uno strumento per, peggio che la divisione per comandare. Quando si crea la paura, chi in qualche maniera ti protegge dalla minaccia che ti sta agitando sopra di te, lui stesso, diventa il tuo salvatore, non importa il prezzo che devi pagare. Mai e poi mai qualcuno rinuncerà a un diritto se non per qualche cosa di più importante. E come si fa a rinunciare alla privacy, come si fa a rinunciare a una serie di diritti civili, a garanzie legali, se non per salvare la vita o i beni? Qualcosa di assolutamente profondo? E tutte le dittature sono cominciate così, aiutatemi a difendervi, dicevano. Cioè, non è che diceva adesso io voglio opprimervi. Il colpo di Stato viene sempre fatto per salvare il popolo, per salvare la nazione, salvare l'identità, la cultura, la religione, la patria, una di queste cose qua. In realtà, in nome di questa salvezza si opprime le persone che in qualche maniera accettano quello che sta succedendo. Poi, vi ricordate quanti furono i professori universitari che rifiutarono il giuramento di fedeltà al Duce? Ma forse ne poche decine. Ecco. E non è che l'Italia fosse un paese, era un paese anche colto, no? Per un professore universitari. C'era un andazzo e la gente seguiva. E allora ho difficoltà a dire ai miei fratelli e alle mie sorelle. No, guardate, passerà. Passerà. È un momento così. C'è la guerra in Iraq. Devono per forza trovare qualche ragione di coesione. Passerà. Passerà. Dico, sì, sì, può darsi che passerà. Però noi intanto, se possiamo, abbiamo fatto la casa, apriamo un negozietto, c'è aperto un quartiere nuovo di tutte case che hanno fatto italiani. Sono quelli che sono in Italia a lavorare e noi magari torniamo giù e anche i nostri figli staranno più sicuri. È difficile dirgli, sicuramente non andrà così, non posso giurarglielo. Io stesso dico, io dove vado? Io non ho un Marocco, un Pakistan dove tornare. Questa è casa mia. I miei figli quando gli dicono, sei marocchino? Perché la loro mamma è di Marrakesh. Dicono, no, no, io sono italiano, mia mamma è di Marrakesh. Loro sono italiani, tutti quanti. E non possono neanche concepire l'idea di dover andare via dalla loro terra, dalla loro casa. E io dirgli, guardate, cambierà, ci sono le lezioni presto, se Dio vuole questa gente che sta al governo, che non solo qualcuno ci offende, qualcuno non ci protegge minimamente, qualcuno parla di noi. Ho cinque figli, ho figli meticci io, quasi tutti. La mia suocera marocchina è più chiara della mia suocera calabrese. Quindi voglio dire, sono tutti meticci alla fine, sinceramente, no? Ecco. E quindi, quando sento il Presidente del Senato che dice le cose che dice, ecco questo l'allievo di Popper, buon Dio, Popper, che ha fatto Popper? Sicuramente lui lontano da Popper, ecco, però è Presidente del Senato, è la seconda carica dello Stato, non è uno così, un guitto razzista che fa un numero su un palcoscenico di seconda categoria. E in questa situazione mi rendo conto che la paura e il disagio che le comunità vivono in questo momento è tangibile. La storia di Via 40, l'avete seguita tutti quanti, e non c'è nessuno di voi che non è stato deviato da come è stata mistificata la storia di Via 40, che sicuramente non era una realtà tra le migliori, eccetera, ma non era certo questa abiezione, non era il ritorno a Kandarar, non si insegnava la violenza, era una scuola non più sgarruppata di molte scuole, tipo io speriamo che me la cavo, e quindi in realtà si potevano trovare percorsi pensando a quei bambini, non pensando all'ideologia di ognuno per imporre il fatto che la scuola deve essere laica, non devono andare qui, per carità, bisognava trovare maniere. Allora di fronte a tutti questi casi, la ragazzina di Biella, la scuola di Via 40, questo pestato di là, quelli di là, il sindaco di Treviso che non lascia andare in giro la gente con il vestito lungo perché dice chissà cosa nascondono sotto, cosa nascondono sotto? Quello che c'hanno. Ma è normale, come tutti quanti. Ecco, allora di fronte a queste situazioni che poi sono anche istituzionali in qualche maniera, non è un micropartito razzista che dice queste cose, in qualche maniera sono anche istituzionali, sono eletti, sono istituzioni che si comportano in questa maniera, c'è un grande senso di disagio. E per assurdo quelli che lo provano di più sono quelli che vivono qui da più tempo, perché si erano illusi sul paese, sull'apertura, sulla democrazia, sulla possibilità di inserzione. Quelli ultimi arrivati già erano massacrati nella casa loro, sono massacrati anche qua, non gli fa grande differenza. Però in realtà a parte il fatto che gli avevano raccontato delle storie diverse, si sa poi la menzogna di Ulisse, l'immigrato a casa, quando torna a casa racconta sempre delle storie. A fronte di questa situazione qua, io credo, da qualche anno, sto dicendo a tutti i nostri amici, credenti e non credenti, grazie a Dio ne abbiamo tanti, dobbiamo alzarci in piedi. Non per difendere noi, per difendere tutti quanti. La diminuzione dei diritti di una parte della comunità è una diminuzione dei diritti di tutta la comunità. Nei momenti in cui si accetta che qualcuno possa essere discriminato, non nei fatti, ma quasi per legge, allora evidentemente si crea una situazione molto grave, è finito il patto di uguaglianza, su quale si basa la democrazia stessa. E se non c'è il patto di uguaglianza, in nome di cosa si chiede la lealtà. In nome di cosa noi possiamo dire ai nostri radicali, e tutti quanti ne hanno, non dovete, dovete essere leali, dovete rispettare le leggi, dovete rispettare, non dovete pensare neanche l'aggressività, non dovete pensare la violenza, non dovete pensare la reazione, perché c'è uno Stato democratico che vi tutelerà. Se dicono, ma come, se il Ministro dice che i bambini musulmani non devono andare a una scuola islamica, ma non è scritto nella Costituzione che tutti quanti hanno diritto di fare scuola privata? Come mai i bambini musulmani non devono? Ma c'è qualcosa che non va, si potrà fare una scuola se non è logisticamente a posto, la mettiamo a posto, mettiamo a posto i servizi, troviamo degli altri spazi, troviamo delle soluzioni. Invece no, sembra che bisogna chiuderle e basta perché bisogna fare una politica musclé. Se uno pensa e dice stupidaggini, viene espulso in maniera violenta creando uno shock nella comunità, ma che ha detto? Se quattro amici si siedono intorno a un tavolino di un bar e cominciano a discutere e uno dice che gli piacerebbe tanto tornare al potere temporale dei papi e l'altro parla no, che sicuramente la cosa migliore sarà lo stato corporativo fascista, il terzo dice la dittatura e il proletariato sicuramente è la cosa migliore, cioè un quarto dice ma che credite voi della Repubblica Islamica? Tra, arrivano i carabinieri e lo mandano via. E com'è questa storia? Perché? Perché il sospetto di terrorismo, insomma il terrorismo è una cosa grave, ci fa paura a tutti, se è sospetto venga inquisito, venga giudicato e non che si manda via così. Il secondo caso. Il terzo caso è quello della rappresentanza, sembra che i musulmani non abbiano diritto a scegliere i loro rappresentanti, perché qualcuno li deve scegliere per conto loro, perché non sono maturi, non sono democratici, non sono abbastanza colti e quindi le autorità penseranno a noi, soltanto a noi, non penseranno ai buddisti, non penseranno agli induisti, non penseranno a nessun altro, penseranno a noi e ci creeranno uno strumento che informerà le autorità di quello che siamo e di quello che non siamo, per carità. E allora quello che diciamo a tutti quanti e continuiamo a dirlo, la parola negata, il diritto conculcato, la rappresentanza fittizia, sono strumenti, sono quelli che creano un'acqua fetida nel quale nuotano pesci pericolosi, che ci possono aggredire in qualsiasi momento, a tutti quanti, a tutti quanti. E allora prosciugare quest'acqua fetida, pulire, ripulire, cioè addirittura non crearla, ma se c'è prosciugarla, credo che sia fondamentale per fare quell'attività di prevenzione della violenza che può scoppiare in qualsiasi momento, e mai questa parola è così pregnante come adesso, e ci può far saltare per aria tutti, frequentiamo le stesse strade, saliamo sugli stessi autobus, le stesse metropolitane, noi, voi, tutti quanti, corriamo lo stesso rischio. Allora, se questa minaccia c'è, da qualunque parte venga, operare perché questa minaccia ci sia meno, quindi rinforzando tutti quelli che sono le garanzie della democrazia, credo che sia la cosa migliore. Questa frase che ho trovato recentemente di Benjamin Franklin, quando disse, chi rinuncia alla libertà e alla democrazia in nome della sicurezza non ha diritto né all'una né all'altra. Ecco, mi sembra che questa sia una lezione importante, allora questo che ci sembra di poter chiedere a tutti quanti, musulmani, non musulmani, credenti, non credenti, tutte le persone che hanno a cuore in qualche maniera la democrazia che ci sia uno scatto, uno scatto che non è soltanto uno scatto elettorale, lo scatto elettorale passa e va, non ci basta dare la fiducia un anno, una volta, in un giorno, per poi, bisogna che ci sia una partecipazione nuova, bisogna che possa nascere nel paese una nuova coscienza che sia attiva, vigilante e che possa mantenere questi valori costituzionali che vent'anni fa ci sembrava di poterli superare e adesso preghiamo Dio che ce li mantenga. Applausi E' uno scenario abbastanza inquietante sul quale si potrebbe anche discutere, vediamo se riusciamo ad avere tempo anche per farlo, io però volevo dire due cose, una a proposito della paura che nei prossimi giorni, il 28 ottobre, sarà celebrata un po' in tutta Italia la quarta giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, che è un'esperienza dal basso, un'esperienza in cui molti che sono qua hanno dato una mano e che per sapere di cosa si tratta potete andare a visitare un benemerito sito di Monteforti Irpino, Avellino, www.il-dialogo.org che avrà come slogan vincere la paura per costruire la pace, perché proprio siamo lì e questi sono i temi, sono le questioni. E la seconda cosa, anche per che rimanga nella memoria e anche perché poi non è stata diffusa tantissimo rispetto a questo tema a cui alludeva in filigrana AMSA, cioè il tema della consulta islamica, volevo dire che di fronte a questa ipotesi, questo progetto concreto del ministro Pisano, è uscito un documento, io credo abbastanza importante, che dice che è importante che la consulta islamica si faccia, è importante che la consulta islamica sia rappresentativa e quindi che dentro ci siano coloro che di fatto hanno dei rapporti, delle relazioni, delle storie, delle vicende rispetto a questa ipotesi di islam italiano. Lo dico perché personalmente ho firmato questo documento ed è una linea che approvo in pieno, insieme a me l'hanno firmato altri, da Paolo Naso, che è il direttore di confronti, a Paolo Branca, che è docente all'Università Cattolica, a Franco Cardini, a Stefano Lievi, cioè molti che in questi anni hanno lavorato con le mani in pasta rispetto a questo tema. È una lettera aperta al ministro Pisano e speriamo che in un qualche modo ne tenga conto, ma era importante mandare questo messaggio perché in effetti il rischio che poi ci riempiamo molto la bocca di questi temi come il dialogo e poi concretamente vediamo che tutto è fermo e ferma l'intesa, qualsiasi progetto di intesa con l'islam, ferma la legge sulla libertà religiosa già da parecchio tempo. Sono ferme troppe cose rispetto a un tema come quello delle religioni, da coniugare al plurale che ci stiamo rendendo conto come è cruciale per il futuro di questa democrazia, se vuole essere tale. Chiudiamo con un'ultima domanda, un'ultima domanda che prende ulteriormente per le corna questo tema dello scontro di civiltà e volevo chiedervi anche per lasciare con un semi di speranza perché è importante che nonostante l'analisi così impietosa che abbiamo fatto e che credo sia corretto fare perché non si deve edulcorare troppo la pillola. Ecco, però vi volevo chiedere dal vostro punto di vista qual è l'itinerario, quali sono le piste, quali sono le strade possibili per uscire da questo clima così duro, per uscire da questo schema di pensiero che al di là del libro di Huntington che poi hanno letto pochissimi in realtà ma citano tutti, lo scontro di civiltà, è diventato così il grande fantasma, il grande schema mentale contro il quale dobbiamo combattere. Ci sono voi, secondo voi, delle piste realiste, quali sono, quale state vivendo in prima persona e così ci lasciamo appunto con un po' di speranza. Grazie, volevo solo aggiungere una cosa quando tu dicevi prima di tutte quelle leggi ferme, che miracolo però ce n'è una che è andata avanti, che è quella che esonera tutti gli edifici di proprietà della Chiesa Cattolica, anche di quelli a scopo commerciale, dall'ICI e lo fa in modo retroattivo. I nostri comuni dovranno restituire alla povera Chiesa Cattolica 15 anni di ICI sugli ostelli, sui palazzi dei convegni, centri convegni, queste cose qua. Scusate. Quindi quella è andata avanti, questo basta però. Adesso guardiamo invece al positivo e diamoci speranza, come ci chiede Brunetto. Io credo che ci siano, per me ci sono tantissime cose, tantissime storie, tantissime eventi, proposte, azioni che mi danno speranza in continuazione. Vi ho detto prima che io sono statunitense, ma statunitense davvero è dura, è dura essere statunitense, è dura trovare motivi di speranza, mi direte. E invece non è vero, non è vero. Ultimamente avete tutti seguito la storia di Sandy Sheehan, la mamma del soldato ucciso in Iraq, che semplicemente ha detto io voglio che il presidente Bush mi dica per quale nobile causa è morto mio figlio. E si è accampata lì davanti, tutto il mese di agosto, davanti alla sua residenza estiva a Crawford, nel Texas. Adesso ha annunciato che siccome Bush torna a Crawford, nel Texas, per le feste del ringraziamento di fine novembre, lei ci torna, anche se piove. Comunque nel frattempo è stata a Washington, è stata anche arrestata insieme a 370 altre persone, perché facevano un bivacco di fronte alla Casa Bianca. In modo ancora più serio e che mi tocca più il cuore, stiamo vedendo come le vittime, i familiari delle vittime, è partita questa cosa in Israele e Palestina, con un gruppo che si chiamano il cerchio dei genitori, veramente era originariamente, the parents in inglese nel senso di genitori, genitori in lutto. E sono persone israeliane e palestinesi che hanno perso, originalmente avevano perso i figli, poi invece adesso sono, siccome si è allargato moltissimo, anche un membro, una persona cara, in un'azione, o di un'azione di terrorismo suicida, oppure un'azione da parte dei militari israeliani, in tutti i sensi, o anche dei civili israeliani coloni. E questi si mettono insieme e all'insegna dello slogan non vogliamo che nessun altro soffra più quello che stiamo soffrendo noi adesso, si mettono insieme e fanno delle cose straordinarie, con la pazienza delle formichine dal basso, che è in fondo tutto quello che anche noi, anche voi, tutte le associazioni che stanno qui, io sono sicura, è questa la nostra metodologia, noi non abbiamo i grandi proclami politici, non abbiamo tutto questo, noi costruiamo le nostre cose sulla relazione interpersonale, sul conoscersi, sull'andare in Africa e conoscere le persone lì, sul costruire reti di solidarietà tra le persone. Credo che queste sono le cose che ci danno speranza. Allora, cosa hanno fatto, per esempio, quando, dopo Lettori Gemelle, si è costituito all'inizio con un nucleo piccolissimo di famiglie che avevano perso una persona cara nelle Lettori Gemelle l'11 settembre 2001, si è costituito l'associazione che si chiama Peaceful Tomorrows. È un domani plurale per dei domani di pace. È una citazione da Martin Luther King, che abbiamo sentito anche prima, la cosa bellissima di Martin Luther King, è una citazione di un altro pezzo, credo di quello stesso discorso, in cui Martin Luther King dice le guerre sono proprio dei mediocri scalpelli, proprio inadatti per scolpire dei domani di pace, l'immagine dello scultore, del creatore, molto bella. Ecco, adesso sono centinaia di famiglie delle famiglie dei 3.000 morti delle Lettori Gemelle, sono più di 200 famiglie che si sono unite in questo e il loro slogan è fai quello che vuoi, Presidente Bush, ma non ti azzardare a dire che lo fai in nome del nostro caro che è morto nella Lettori Gemelle e parlano, alzano la voce su questo. Sono stati, per esempio, subito dopo, all'inizio del 2002, appena iniziati i bombardamenti sull'Afghanistan, sono stati lì e si sono messi accanto alle persone dell'Afghanistan che subivano i bombardamenti che Bush voleva che fosse in nome per vendicare i loro morti, i loro parenti morti. Queste sono reti, sono le reti del futuro e sono le reti che secondo me ci permetteranno di avere un segnale di speranza. e volevo chiudere raccontandovi di una persona che ho conosciuto qualche settimana fa perché credo che Luisa ama l'Africa, io amo l'Africa, molti qui che conosco amano l'Africa e credo che l'Africa abbia in tutte le sue parti, con tutte le sue culture, le sue civiltà diverse, abbia una freschezza, una creatività che ci potrà aiutare a tirarci fuori da questi secchi in cui ci troviamo adesso. La persona che ho conosciuto è un vescovo, un vescovo della Chiesa Cattolica, del Malawi, e si chiama Thomas di nome, in effetti il cognome non lo so, non l'ho mai saputo. Lui si presenta semplicemente come vescovo Thomas. Il vescovo Thomas in una serata che abbiamo fatto interreligiosa parlava solo l'inglese, ha chiesto a me di tradurre quello che voleva dire, c'erano rappresentanti di altre 6-7 fedi diverse, lui era l'ultimo a parlare. Eravamo seduti insieme, io gli raccontavo un po' quello che stavano dicendo gli altri in italiano, e a un certo punto ci siamo resi conto che tra qualche secondo sarebbe toccato a lui, mi ha messo, bravo vescovo, ha messo la mano sul mio ginocchio stretto forte e ha detto tai che tocca a noi. E siamo andati su al pulpito e il vescovo Thomas ha cominciato a dire, non mi aveva raccontato niente di quello che avrebbe detto, ha cominciato a dire io sono una storia interreligiosa. Io ho tradotto. Io sono un vescovo della Chiesa Cattolica, sono un vescovo da un anno, ha 42 anni il vescovo Thomas, un giovincello, sono vescovo della Chiesa Cattolica del Malawi, nominato dal Vaticano un anno fa. Mio padre è un imam musulmano e poi ha raccontato tutta questa storia che non è stata chiaramente del tutto facile, ma che adesso sta finendo in una maniera straordinaria e vivono nella stessa casa. Suo padre all'inizio, quando lui da ragazzo volle convertirsi al cristianesimo, suo padre era molto arrabbiato. Poi quando addirittura Thomas decise di fare il prete, era furibondo suo padre. Poi però con il passare degli anni, non tantissimi perché appunto Thomas ha solo 42 anni, ma col passare degli anni piano piano il padre ha visto il figlio che vita faceva e quanto si spendeva per il bene della sua comunità che era la stessa comunità del padre e ha vinto l'orgoglio e l'amore del padre per il figlio è stata una cosa talmente alla fine sconvolgente che nel momento in cui Thomas è stato nominato vescovo l'anno scorso il padre gli ha detto Thomas allora anch'io devo diventare cristiano e Thomas inorridito gli ha detto no papà tu sei un bravissimo imam per la tua comunità e per il tuo popolo siamo gli stessi viviamo insieme e ci amiamo come padre e figlio l'Africa ha delle belle cose da insegnarci mi ha commosso questa storia ricordando a mio padre che è mancato qualche anno fa che rimase assolutamente non dico sconvolto perché non era uomo che manifestasse sconvolgimenti però insomma molto molto colpito dalla mia scelta religiosa e alla fine della sua vita senza dirlo a me perché non era una persona che mi parlava di queste cose però tramite mia madre come spesso facevano gli uomini di una volta mi disse a mia madre beh io ti devo dire che io sono contento di mio figlio e questa cosa qua il fatto che mio padre poi sia morto poco dopo con contento di me sicuramente mi è stato di grande aiuto spirituale anche ero sicuro della mia scelta però il fatto che lui l'avesse accettato era molto importante questo come collegamento alla storia del Vescovo Thomas in qualche maniera io credo che ci siano percorsi e noi ne stiamo facendo qualcuno percorso importante con Brunetto abbiamo fatto un percorso importante che sono stati gli incontri cristiano-musulmani di Modena che sono finiti però non è finita questa esperienza non è finita questa amicizia che si è creata in quegli anni e stanno andando avanti altre cose perché è normale le cose degli uomini non vanno avanti più di tanto se ne inventano nuove cambiano le situazioni cambiano le persone però quando dieci anni fa quindi dodici anni fa cominciamo a parlare di dialogo interreligioso all'interno della mia comunità era una cosa difficile da far passare e si diceva che non c'era possibilità di dialogo o loro diventavano musulmani oppure che dialogo dobbiamo fare insomma noi abbiamo ragione loro ci hanno torto il massimo del dialogo che possiamo fare è spiegargli perché devono diventare musulmani poi per il resto non se ne parla e invece piano piano e addirittura chi parlava in questa maniera rischiava di essere accusato di tiepidezza opportunismo e tutto quanto piano piano è passata grazie a Dio è passata e oggi non c'è praticamente associazione musulmana in Italia che non faccia dialogo interreligioso e le giornate del dialogo che hanno preso avvio con l'appello che fece il Papa Giovanni Paolo II a Sisi nel 2001 quando disse invitò i cristiani a digionare nell'ultimo venerdì di Ramadan in solidarietà con i musulmani chiedendo che questa condivisione di questo sacrificio fatto per l'amore di Dio possesse unirli in un progetto comune di convivenza di conoscenza reciproca eccetera è andato avanti nonostante resistenze nonostante una quantità di naturalmente non tutta la chiesa naturalmente non tutta la comunità islamica però è andato avanti per quello che ci riguarda in maniera seria e come vi dico noi adesso io sono bombardato da richieste di andare a parlare in tutta Italia in quella giornata lì ecco allora dico vabbè ma cerchiamo di farla una giornata in che dura in 15 giorni così almeno si riesce a parlare con tutti perché perché poi magari loro fanno però dice sai ci sono gli scout sono venuti sono venute le acli i beati costruttori i passcristi l'azione cattolica la caritas tutti quanti vogliono parlare con noi noi vogliamo parlare con loro cosa andiamo a dire ecco allora è chiaro che una comunità è fatta per il 95% da stranieri che è qui da poco tempo anche la media dei musulmani qua da 7-8 anni difficoltà di comunicare l'uso della lingua proprio tutto quanto per cui però c'è dentro profondamente è passato e questo credo che sia uno dei percorsi più importanti questo lo troveremo davanti a Dio questo lavoro che abbiamo fatto se Dio vuole perché l'abbiamo fatto veramente con l'intenzione che la gente si conoscesse e questo deriva anche così anche da questa nostra posizione di essere ponti speriamo che non ci bombardino anzi lo fanno tutti i giorni ma resistiamo per ora essere ponti tra queste realtà tra gli immigrati i residenti tra i musulmani i cristiani tra le varie comunità e tutto quanto che può essere e questo sicuramente è un percorso importante un altro percorso importante insisto è quello della difesa della democrazia perché credo che sia la base stessa ci siamo cresciuti così siamo cresciuti con con questa parola che a un certo punto non la sopportavamo più tanto ce la dicevano in continuazione i valori della democrazia i valori ci sembrava che fosse qualcosa di ridondante di esagerato e oggi ci rendiamo conto nel momento in cui rischiamo di perdere dei pezzi quanto pagheremmo se si diminuisse è già diminuita un pochino ecco una pianta è una pianta che va innaffiata tutti i giorni è una pianta che va innaffiata con la partecipazione con la presa di coscienza con l'applicazione chiudendo la televisione per esempio potremmo fare un fioretto tutti quanti un giorno una settimana si chiude la televisione per esempio guadagniamo qualcosa parliamo in casa leggiamo un libro andiamo a fare una passeggiata andiamo a trovare degli amici chiudiamo la televisione un giorno una settimana dico non sarebbe mica male sarebbe una tragedia per gli inserzionisti una soddisfazione impagabile per noi sicuramente quindi si possono fare delle cose possiamo chiedere ai nostri politici che adesso cominciano a venire come le sirene a chiederci voti chiederci non a noi che ne abbiamo pochi ma alla società civile italiana molto di più possiamo chiedere degli impegni forti possiamo dire cosa ci date in cambio non vogliamo posti non vogliamo prebende vogliamo degli impegni seri scritti ecco non un contratto un'altra cosa più serie più come si deve insomma che poi un giorno le mettiamo davanti è vero che non possiamo poi ritirarvi il mandato però insomma ecco in qualche maniera magari mediaticamente si riesce a usare si riesce a spingere su queste cose sicuramente si può fare qualcosa un'ultima cosa infine l'intenzione l'intenzione positiva credo che sia nel cuore della stragrande maggioranza degli uomini ma non è una cosa così sicura deve essere confortata da una situazione generale e se questa situazione generale contribuiamo tutti a realizzarla credo che possa poi trasformarsi in azione quotidiana quello che possiamo fare noi da credenti diciamo che non è importante il risultato che otterremo però è importante sicuramente lo sforzo che facciamo coerente per ottenerlo e in questo senso credo che sia una cosa che possiamo fare tutti quanti credenti e non credenti musulmani e cristiani uomini di buona volontà in generale e nel rapporto fra noi costruire questo percorso che diventa veramente un antemurale a tutti quelli che vogliono usare gli uomini come carne da macello quelli che accendono il fuochi ma ci dice il corano Dio spegna i fuochi siamo noi strumenti siamo noi pompieri se vogliamo esserlo grazie grazie davvero per questi suggerimenti per queste idee per queste buone pratiche come vedete ce ne sono parecchie ce ne sarebbero anche altre io direi che dobbiamo chiudere questa parte io mi prendo l'incarico come presidente di chiuderlo con un'altra storia è una storia tratta dal Talmud ed è una storia che ci proietta molto in avanti perché si pone un problema non da poco che è quello su chi entri nel Regno dei Cieli non so se Elisa tu ti sei mai domandata chi entrerà nel Regno dei Cieli io spesso ed è per questo per esempio che di solito in casa abbiamo un posto libero perché potrebbe arrivare il profetelia sai che il profetelia è quello che dà il segno che si chiude allora non si sa mai che non venga e non trovi un posto un piatto due maccheroni insomma se riesce a recuperarle allora questa domanda se l'è posta anche il Talmud spesso e c'è in particolare una storia che mi sembra bella per chiudere questa riflessione che è stata originata dal discorso sul ridere dei pregiudizi per superarle poi come avete visto è saltato fuori tanto di più anche tante storie molto molto belle molto piacevoli il protagonista di questa storia è un rabbi che si chiamava Barucca di Huzza Barucca è Benedetto quindi rabbi Benedetto quindi omonimo del più noto papa recentemente assunto al trono di Pietro al soglio di Pietro che andava spesso nella piazza del mercato di Lappet più o meno era un parente dei tuoni insomma la zona era quella lì là un giorno gli appare il profeta Elia e allora rabbi Barucca ne approfitta e gli domanda guardando la piazza del mercato brulicante di gente fra tutti questi uomini ce n'è almeno uno che avrà parte al mondo futuro Elia però risponde nessuno nessuno di questi avrà parte nel mondo futuro ma più tardi nella piazza del mercato arrivano due uomini ed Elia allora torna a chiedere a rabbi Barucca anzi ed Elia che dice a rabbi Barucca guarda hai visto quei due là quei due lì avranno parte al mondo futuro quei due lì entreranno allora rabbi Barucca stupitissimo si precipita dai due nuovi arrivati e chiede loro ma scusate qual è la vostra professione e allora loro a loro volta stupiti rispondono noi siamo due buffoni quando vediamo qualcuno che è triste lo rassereniamo e quando vediamo due persone litigare cerchiamo di farle riconciliare questa è la storia ma il Talmud conclude molto argutamente dicendo che ognuno di noi nel mondo futuro sarà chiamato a rispondere di tutto ciò di cui ha potuto godere in questo mondo e ha scelto di non goderne e quindi buon godimento applausi 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 applausi